Ben ritrovati a Non Solo Roma, continuiamo con le nostre notizie su Roma e provincia. Fino alle 14 in vostra compagnia, siamo ancora in diretta qui per Radio Roma News. Tempo di approfondimento sulla capitale, come tutti i mercoledì chi ci segue sa che i prossimi 10 minuti saranno interamente dedicati proprio al racconto della capitale, tra la cronaca e l'attualità, ma anche eventi in chiusura. Do dunque il mio benvenuto, ovviamente saluto Michela Annibali dalla redazione di Roma dei Linius che deve raccontarci molte notizie di cronaca quest'oggi. Buongiorno a te. Buongiorno Elisa. Buongiorno, ben ritrovata Michela, bentornata a Non Solo Roma. Allora, purtroppo partiamo con due note davvero molto amare, perché iniziamo con due notizie di cronaca scioccanti, davvero agghiaccianti, partendo da un caso di disagio sociale, forse potremmo definirlo così. Sì, infatti. Avrebbe dovuto badare alla mamma 84enne, invalida e non autosufficiente. Invece la figlia 49enne si sarebbe allontanata dall'abitazione per andare in vacanza in Abruzzo insieme ai due figli minori, senza prestare le dovute cure della madre, così abbandonata a se stessa senza cibo né acqua e senza alcun telefono per poter chiamare i soccorsi. L'anziana è morta di stenti e la figlia è stata fermata dai carabinieri della compagnia di Monte Rotondo su disposizione della procura di Tivoli. Tutto è nato la mattina del 12 giugno, quando è stato ritrovato per una casualità il cadavere dell'anziana. I carabinieri della stazione di Monte Libretti si erano recati nell'abitazione per notificare un atto alla figlia. Giunti alla porta hanno suonato senza ricevere alcuna risposta, ma si sono insospettiti a causa di un forte odore proveniente da quell'appartamento. Così hanno deciso di approfondire il controllo per capire meglio la situazione. Appunto hanno effettuato questa verifica di perimetro della casa, trovando poi una finestra aperta che ha permesso di accedere all'interno. Una volta entrati in casa c'è stata la tragica scoperta, il cadavere dell'anziana era riverso a terra, a coprirla parzialmente solo un lenzuolo. Il medico legale ha confermato anche che il decesso della 84enne risaliva addirittura da alcuni giorni prima e sono stati subito effettuati accertamenti per far luce ovviamente sull'accaduto. I carabinieri hanno ricostruito che la figlia 49enne, convivente e deputata alla cura dell'anziana, si era allontanata dall'abitazione per andare in vacanza con i figli minorenni in Abruzzo, senza quindi prestare le dovute cure alla madre allettata, lasciandola quindi sola a casa abbandonata a se stessa, senza cibo né acqua e senza telefono per chiedere aiuto. Tra l'altro nelle vicinanze non c'era neanche la presenza di alcuni parenti a cui l'anziana avrebbe potuto chiedere aiuto, dunque completamente abbandonata a se stessa. Una volta che la figlia è tornata... Stavo dicendo Michela, che dire, che è veramente dei dati scioccanti, drammatici, che c'è poco da commentare, in tal senso, poco da approfondire, davvero una storia di tristezza, che in fondo è davvero tanta tristezza. Ti rilascio la parola perché so che ci sono forse dei ulteriori aggiornamenti, in tal senso. Sì, tra l'altro la cosa più agghiacciante è che la figlia, una volta ritornata a casa, ha trovato il corpo della madre morta, ma non ha chiamato le forze dell'ordine, ma l'ha semplicemente coperta con un lenzuolo che poi è stato ritrovato dai carabinieri. Quindi è come se lei si fosse praticamente disinteressata della madre che era dunque morta. E tra l'altro ovviamente i carabinieri l'hanno arrestata e l'hanno portata alla carcere di Rebibbia, dove il GIP del Tribunale di Tivoli ha convalidato il fermo e disposto la misura degli arresti domiciliari. Comunque restano da chiarire ovviamente i motivi che hanno portato così la figlia a non prendersi più cura della madre e del gesto folle nel coprirla solamente con un lenzuolo senza poi curarsi di chiamare le forze dell'ordine. Ecco, davvero una storia incredibile. Michele, ovviamente lascieremo chiaramente il caso alle forze dell'ordine che si occuperanno di questa vicenda. L'hai definita bene tu davvero agghiacciante. Come agghiacciante è anche la seconda notizia che ci racconti. Una assurda sfida sui social, l'ennesima potremmo definirla, ha un epilogo anche in questo caso tragico. Dobbiamo andare a Torbella Monaca che tra le altre cose, non so se possiamo collegarle queste due cose, è una periferia molto problematica di Roma, magari sono collegate le due vicende, i due aspetti. Potrebbe. Un ragazzino di 12 anni è morto mentre si trovava legato con una cintura a letto, proprio dove hai detto tu, nella periferia di Torbella Monaca. La tragedia è avvenuta nella giornata di domenica scorsa in via dall'archeologia. Sul caso indagano gli agenti della polizia. Ciò che emerge dai primi elementi raccolti sul caso è che sia ad escludere l'ipotesi di un gesto volontario, quindi di un suicidio. La pista abbattuta attualmente è quella di un gioco finito male. Al momento dei fatti il dodicenne si trovava da solo in camera. Nell'altra stanza c'erano la madre e la sorella e sono state proprio loro a dare l'allarme, chiamando il 112, non appena hanno ritrovato il corpo del bambino, agganciato con una cintura in corda nella parte superiore del letto a castello. Forse si pensa a una perdita di equilibrio, un momento di distrazione, comunque la corda improvvisamente si è chiusa intorno al collo e lo ha soffocato. Ovviamente appena è scattato l'allarme sono arrivati sul posto gli agenti della polizia insieme agli operatori del 118 che ovviamente in vani hanno provato a rianimare il corpo senza vita del bambino. Ovviamente per il dodicenne non c'è stato comunque niente da fare e non hanno potuto ovviamente fare altro che constatarne la morte. All'arrivo della polizia tra l'altro c'era un computer acceso proprio davanti al letto dove appunto è stato ritrovato il cadavere del bambino e gli agenti hanno sequestrato sia il pc che il telefono. Il timore degli inquirenti è che possa trattarsi di una nuova challenge sui social e a farlo pensare è stato un episodio proprio analogo avvenuto all'infernetto, fortunatamente con un epilogo molto diverso, però è ancora troppo presto per dirlo. Nel frattempo ovviamente i dispositivi restano al valio della polizia postale che presto ne analizzerà il contenuto. Agghiacciante anche questa davvero Michela perché il web ci fornisce davvero tante cose positive ma dall'altra può celare dietro di sé davvero un mondo oscuro e pericolosissimo soprattutto per le nuove generazioni che sono un pochino più fragili in tal senso. Quindi bisogna davvero prestare la massima attenzione. Anche in questo caso chiaramente aspettiamo ulteriori aggiornamenti per capire se si tratta effettivamente di una challenge. Alleggeriamo decisamente il carico ma non più di tanto perché ennesimo episodio legato al deturpamento, lo potremmo quasi definire così, dei monumenti storici della nostra capitale, però questa volta insomma c'è stata una multa molto salata. Infatti tenta di arrampicarsi sulla fontana di Trevi, bloccato dalla polizia locale, mille euro di sanzione. Invece al Colosseo è stato arrestato un venditore abusivo per aver aggredito gli agenti durante i controlli. Lo rende noto la polizia locale di Roma capitale. Voleva salire su uno dei cavalli ornamentali della fontana di Trevi ma è stato fatto desistere dal suo intento dalla pattuglia della polizia locale di Roma capitale che è riuscita ovviamente a bloccarlo dal tentativo di fuga. Spiegano così in un comunicato. Si tratta di un uomo di nazionalità ucraina di 27 anni, privo di documenti di identità, motivo per il quale è stato condotto presso gli uffici di fotosegnalamento per le procedure di identificazione. Risultato regolare sul territorio nazionale è stato sanzionato secondo quanto previsto dal regolamento di polizia urbana per un ammontare complessivo di circa mille euro oltre all'ordine di allontanamento. Al Colosseo invece è un cittadino bengalese di 28 anni è stato sorpreso a vendere abusivamente bottiglie d'acqua. Temendo di essere sanzionato ha reagito spintonando gli agenti che lo avevano fermato per i controlli e nel tentativo di darsi alla fuga ha colpito un operante che ha necessitato delle cure mediche del caso. Per lui ovviamente è scattato l'arresto per lesioni, resistenza pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Beh che dire, ecco le multe sono molto salate quindi prima di intraprendere già sti folli nei monumenti storici di Roma che sono praticamente presi d'assalto tra le altre cose, non soltanto ovviamente dai turisti noi lo sottolineiamo bene Michela ma anche dagli stessi romani spesso però le multe sono salate perché 1000 euro insomma è una bella cifra. E concludiamo ovviamente però con il sorriso con una bellissima mostra a cura di Marcellino Radogna di Marcellino Radogna chiedo scusa a Spazio 5 di che si tratta? 100 scatti per altrettanti 100 baci in questa mostra fotografica di Marcellino Radogna che è stata proprio inaugurata ieri alle 18.30 a Spazio 5 via Crescenzio 99d un viaggio visivo attraverso l'affetto e il rispetto catturati in scatti magici di baci e baciamani tra personalità di spicco e baciamoci così il nome di questa mostra fotografica appunto di Marcellino Radogna che appunto ripetiamo ha aperto i battenti proprio ieri a Roma presso Spazio 5 in via Crescenzio 99d l'esposizione è aperta fino al 30 giugno presenta una selezione di oltre 100 fotografie e ovviamente l'ingresso è gratuito quindi ovviamente le persone potranno tranquillamente entrare in questa bellissima mostra e farsi abbracciare dall'atmosfera di sentimenti, amore e benevolenza. Beh che bello devo dire che dopo le notizie con cui abbiamo aperto Michela a concludere con questa bellissima mostra ci voleva, ci lasci un po' di romanticismo che non guasta mai dunque fino al 30 giugno c'è la possibilità appunto di assistere a questi scatti incredibili mi ha colpito ecco proprio per chiudere la citazione che voi fate nell'articolo di Alberto Sorghi che si è rivolto proprio a Marcellino Radogna dicendo tu dovevi fare l'attore e non il fotografo per sottolineare che aveva una profonda sensibilità in tal senso e forse proprio da questi scatti si evince ti ringrazio di cuore Michela noi con Roma dell'Inuso torniamo mercoledì prossimo ma voi insomma continuate ad aggiornare i nostri cittadini, i nostri ascoltatori con le notizie quotidianamente sul vostro sito grazie davvero di cuore grazie a mercoledì a presto bene ultima pausa pubblicitaria in programma e tra pochissimi istanti restiamo ancora su Roma questa è una puntata interamente dedicata alla capitale niente territorio oggi perché torniamo a parlare di una manifestazione che piace molto ai romani e non solo le arene cinematografiche sarà possibile vedere dei film anche magari le ultime uscite all'aperto sotto il cielo di Roma dunque non vi preannuncio nulla a tra pochissimo con tutti i dettagli grazie a tutti grazie a tutti